Eccoci qui ragazzi con Giacomo Spera e Gianluca Quarino, il capitano degli Alaska Grandissima vittoria contro il Poker United Devo dire il Poker United, bravi voi, ma molto sotto tono dopo un grande girone eliminatorio del Poker United Cos'è da dire Gianluca? Vediamo un po' il tuo commento Noi siamo in rappresentanza di tutta la squadra perché non c'è un top player oggi Non li inquadriamo perché molti sono nuti Siamo un gruppo, siamo una squadra veramente di più senso Però vabbè ci sono troppi nudi in questo momento E non li possiamo inquadrare anche che voi sfigurerebbero Però voglio farmi dare una cosa, fatte la prestazione del portiere, la somiglianza del nostro capitano con De Kultis Il principe della stanza Totò, eccolo Cioè è veramente, c'è anche braccio di ferro Non lo possiamo inquadrare, è un altro Popeie Torniamo al match Gianluca, ci hai detto comunque La partita corretta, la match non la veste Sicuramente, Giacomo invece cosa hai da dire? Tu che qualche partita l'hai saltata però hai ritrovato comunque una squadra con le palle come si suosire Questa è stata compatta, devo dire agli altri veramente poca cosa Per cui noi ci siamo impegnati ma è il minimo Io ancora devo spezzare perché hanno subgrappato e ci sto dicendo Va bene così Comunque vi aspetta una grande, dopo le ultime prossime due partite di Girone Vi aspetta perlomeno un grande playoff e una grandissima fase finalissima Posso dare un bacio a mamma? Un bacio a mamma, qualche dedica per Gianluca Io a tutti quelli voglio bene, agli organizzatori del torneo Grande e che ti hanno portato fortuna alle due del secondo mondo Ciao ragazzi